Ciao a tutti, terzi episodi, ce l'avevamo lasciati proprio qua. Noi ci diamo, non diamo se... Bravo, subito! Subito mo! Non lo sapevo, ma anche te lo sapevi che c'è così? L'altra volta abbiamo fatto il flop, perché noi inizieravamo lasciando al dritto e invece... Invece... Esattamente, mamma mia! Panucchi! Eh, è qui! E lo fai? E lo fai? Sta a fare tutto! Ma non è gay! Non vedi di cercare, ma non lo fa nulla di essere... Ancora tutte le volte, tutte le volte... Un'altra notizia... Registra, registra... Una chiesa... Ma dov'è? Si, si vede meglio si che con la teleandria... asci da sgricciare mi fa paura ma non schizzo sgricciare tanto viene uno eh il primo schizzo si passa il joystick attorno beh ma voglio che tu lo prenda bene oh c'è uno in pk siccome di molti ce ne sono stati pure ma io c'è più è vero eh si di si guarda a te guarda davanti di... nella cappa guarda davanti di là ci sembrano raggi di vietnamita la fai battizioni no 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 è sinistra la sinistra si 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 ah è la spuggenza è la spuggenza si no beh best ieri la fila fanno la fila 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 tutto ahi oh ragazzi voglio che ti alzi yeah come quello come quello della carrozzina ma allora sono peggio di noi mali o o o o o o che sto andando in maniera molto fluida guarda se non mi schizzo qui ok perché io ce lo prese una volta per prendere queste matti sul pubblico eh episodio eh di una scala di basci no devi andare giù qui scala di basci ma cosa c'ho già giocato non si che cosa dice art di art di art di le fomenti smolta la sera molio che arriva ti chiedi senza non 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 il senso no no chi mi sa no 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 ma nasconde di strisci da a borg non ho fatto caso ah devi chiudere perciò scusa vero devi vedere qui siamo la macchina ma cosa vuol dire belle belle male ah mi piace c'era la cosa si carica l'ora ascensore tira 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 no il tossio devi avviare il generatore eh famosi famosi tini di slide attento ma piano no perché ora voglio vedere questo oh ok no piano allora che fa no secondo me vuol dire che di là c'è qua si ma è girato da dentro si non so se vedrà te scusa ma ah ti fanno aprile qui qui cosa c'è aprile ancora fanno accontente poi il tuo piano ti faccio un pacchetto di dulex da 200 di dulex si cosa si ti te ti sei fatto no ma ma sei scemo come non mi sembri ma così ma ora 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 mi auguro ora ti devi cura la zotta vedono ah, non cazzo per me no, vabbè, ho fatto la zotta c'è andato noi ancora la stranza ho fatto la zotta poi c'è qui, c'è non cazzo per andare guarda vendo tutte le famole cosa bella tutto questo assinò pure una literary dottorocsore entro debito non da niente wolve polio colleghi bell' no 3 esci e cerca di evitare no, 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 no prima ti posso dire mi rompio olio ma chi è? ma scusa ma chi è? si tu ti ho, tu mi devi nascondere è vero non ci vede, non ci vede no quanti sei? qui, 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 io sto andando a casa si, no, ma non ci siamo mandati, no, fatti, visti ma è qui ci... eccolo ma è che culo scassi curati, curati, curati aspetta una luce fai di quella verda è vero, è vero e comunque il diritto per andare avanti qui sull'acqua è scazzati ancora? è scazzati partiti partiti qui si è andato a casa lì, lì, anche si non lo aspettavo vuoi anche tornare a lavare i piatti, dai si si ho scritto malissimo si il 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 Io mi sono perso nel villaggio. Allora questo è il villaggio turistico. Allora si rinchiudono tutti. Si rinchiudono. Ecco ci siamo. L'hai rinchiudito anch'io. No, lei non ti credo. No, lei non ti credo. T'ha visto, t'ha visto. T'ha visto, t'ha visto. Gira, gira. Nasconditi qui dentro. T'ha visto. Lei con una botta. No, ma è partito il generatore. Si, si, si. L'hai rinchiudito. Dov'è? L'hai rinchiudito. Oh, io non ti credo. Sì. Allora, te devi andare. Te devi andare. Da dove veniva lei. Quindi ti devi nascondere. La fai passare. Non si nasconde. Vedi? Ora spunta lei. Porta. Va piano piano avanti. Eccola. Vedi? Quindi, non riesci ad andare. Eh! Se va qui giù. Non mai mi nascondo. Però non si vede un cazzo. Io posso stare qui con il bar. Eh! Mamma mia. Sì, sta giù. Eh, è lì. Qui si sbircia o mi stia? No, si sbircia. Si scoppia. Io posso sbirciare. No, aspetta. Posso sbirciare. Aspetta, aspetta. Aspetta. Piano. Eh, qui. Se vuole un po', nulla ti becca. Sbircia piano piano. Non lo pigiare tu. Piano piano. Eh! Sì, lo vado. Esco, esco. Esci, te esci. Ma piano piano perché sennò... Ma non è che puoi uscire anche da un altro po' alto. No. Ma piano piano... Tanto devi andare di là. Dove è venuto là. Io spero che muori. No. No. Non mi ha ammazzato qui. Eh, ma ti ti vuoi? Non mi ha ammazzato qui. Non mi ha ammazzato. No. Perché ti ha preso male. Ah, perché c'è anche per le mene e per le mene. Ma te lo dico. C'è la pila. Se io corro il pericario... Dov'è? Dov'è la scelta? Dov'è la scelta? Dov'è la scelta? Dov'è? Ecco. No. Eh, ti ha preso. Ancora via. Ancora via. Brava. Torna lì. Torna lì. Torna lì. Io ora devi... No, aspetta. Però non sento... Buu, 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 buu. Bene, vuol dire che non ti ha preso. Ora sì. Vai. Qui. Oh! Boia, Dio. Ci si è fatta, Dio. Dai. Due ore, Dio. Perché anche lei è fuori. Ma... Boia, ci si è fatta. Che voi chiaramente non l'avete visto. Ma noi due siamo Dio. Boia, Dio. Salvataggio. Dio. Dio, certo. Eh. Noi. Noi qui siamo. Noi qui siamo. Qui c'è una band, qui. È indietro alla chiota su. No, questo è una luce. Ah, ah, no. Che bello. L'era beh. Boia, Dio. Ma ti metti. Eh. Vai dall'indiput. No, no. Eh. Ovviamente, ovviamente. Non si muore. No, no. Non cotto. Diciamo che non abbiamo preso un grande schizzo perché ce l'aspettavamo data... Diciamo... Dato il modo in cui devi affrontare la demo che ci faccia tutte simile. Ah, adesso. Non c'è la prima vista. Dai. No. Non c'è la prima. 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 Ecco. No, non c'è la prima. Ma non c'è la prima, che vi aveva la prima. Ne ha morti in giù. No. Meglio sì. No. Tanti i vostri vuoi dei posti di ce l'ha pensato. No. ... ... ... Perchè te l'aspettavo. Viste? Alla bella. Viste? No, no. No, no. Quindi, no. Perché te l'aspettava. Viste carabella.. eccoci ah vedi vai vai si è quella di Amo non mi si dice nulla non l'ha vista eh si non l'ha vista nissuto gira la manioporna se l'hanno andato ci dite Amo eh grazie ma vai 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 si dovevano saltare tutti i bambetti iniziosa ah Jessica è cambiato è cambiato è cambiato tutto e ne abbiamo anche e ne abbiamo oh god oh god oh god andava no dove andava guarda lì in una porta scena ah oi ah si padre della bestia che si chiede di più questo è vero ma non avevo fatto un elettrocio guardate i pezzi ti avevi scappato eh però qui cambia tutto cambia tutto arriviamo allora sono sempre davanti ho capito c'è una strada ricorda che per chiudere la chiave le porte e c'era la segnatura ma come on scum she'll be in the fire corri il buger non lo so no che l'ho tu l'iriano a piena corri ti va bene anche lui no no comunque non è possibile but voce non dietro godam sinistra gocci ah pare non lo so eva pare s'è fatta oh 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 in the fire in the fire give me the pain ok no non so non so non so non so non so vai 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 giù 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 e che cazzo no no eri un bello tiri hai visto cosa ne usava? si ho visto dai dai va 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 vai andate vai corri corri accendi accendi la luce una migliore una migliore a dire una birra dici ah ah devi aprire questo voler ti guarda che pensino che è questo? non ci andiamo passa di via ah shit oh chi è? chiudi 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 eh c'è uno che ti insegue è un imbecille è un imbecille che ti segue bravo liscia ma buca eeeh e ora alla di là la 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 luz Ivy hai visto? beh da questa ce la fate non caricare ora perchè magari vi si può perdure male Qui sopra, qui sopra, interagisci, sì, ancora, ancora, forse ho fosso una finestra, ma prova, forse ho fosso esplazare la Эvolt prova. ehi 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 guarda ehi 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 che esiban non ci si dà non ci si dà eh, qui ora si va su vabbè, l'alcina allora, io, cari ragazzi invece direi di finire l'episodio perché guarda qui non è rifiutante perché la parte che hanno le nostre giorni per il campo poi a finire quindi io anche sembra neanche la scena però non devi fare questo è niente, questo è il terzo episodio ci vediamo al quarto anche se magari per alcuni doveva essere trovato non andava morto detto questo appunto ci vediamo al quarto episodio e la storia si fa sempre più interessante anche se per ora nel terzo episodio ci sono stati solamente le principalmente fume in fume le scossioni le scossioni anche qui dice che mamma io mamma si 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 ��면 è c'è Grazie a tutti.